L'antimicrobico resistenza è un rilevante problema di salute pubblica a livello globale, è una delle più gravi minacce sanitarie del nostro tempo. La ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci dunque risultano essere un importante strumento di contrasto all'emergenza. Approfondiamo l'argomento con Stefania Stefani, presidente della società italiana di microbiologia e professoressa di microbiologia e microbiologia clinica all'Università degli Studi di Catania. Buongiorno professoressa e benvenuta. Buongiorno e grazie, grazie infinite per questo invito. Professoressa, inizierei questa nostra conversazione da fatti di attualità, diciamo così. Sono stati pubblicati recentemente su Nature due studi che descrivono la scoperta di un nuovo antibiotico che potrebbe risultare efficace contro l'acinetobacter baumannini, un batterio resistente ad antibiotici detti carbapenemi. Ci spiega cosa hanno scoperto, nello specifico, gli studiosi e cosa ne pensa innanzitutto su questo ritrovato. Bene, intanto lei mi ha segnalato questi due lavori su Nature, ce ne sono anche altri, diciamo così, che tentano di bypassare, se posso dire, il grave problema che si è creato in questo periodo, in questi ultimi anni, sulla antimicrobico resistenza soprattutto nei bacilli grammi negativi. In questo caso si tratta di acinetobacter baumannini, che è un microrganismo grammo negativo non fermentante, cosiddetto. E ovviamente la difficoltà adesso nello ricerca e sviluppo di nuovi farmaci sta nel trovare nuovi target, perché i microrganismi comunque, mi faccia dire, hanno imparato la lezione e imparando la lezione hanno modificato il loro comportamento acquisendo le resistenze. E questo comporta che sia sempre più difficile superarle queste resistenze. Ora, questi due lavori mettono in evidenza che cosa? Mettono in evidenza che si possono utilizzare strategie, perlomeno di ricerca e sviluppo, per ricercare nuovi target e che questi nuovi target funzionano in vitro. Ora, sono una bellissima notizia, tanto per non tirarci giù di morale su questo argomento. Però da qui ad arrivare nella clinica la strada è lunghissima. È lunghissima e non, diciamo, non liscia, non una strada in discesa, nel senso che le varie fasi di sviluppo che portano poi un farmaco ad essere utilizzato sono non solo lunghe e direi anche molto costose. Quindi diciamo che la strada per far diventare una idea scientifica, una osservazione scientifica, una dimostrazione scientifica applicabile alla clinica è una strada perigliosa e lunga. Ci sono diversi fattori che portano a questo, ma insomma così è. Quindi buone notizie da un certo punto di vista quando escono lavori come questo e speranza di poter, diciamo così, passare alla seconda fase, quella nel modello animale, poi nel paziente sano e poi nella patologia che questa molecola può dare a debellare. Lei prima parlava di nuovi target, quindi le chiedo qual è il processo che porta all'individuazione e poi allo sviluppo di un nuovo antimicrobico. Ma guardi i processi sono vari perché dipendono molto dalla dai gruppi che fanno ricerca da questo punto di vista. Da una parte ci sono gruppi che cercano in antibiotici in generale con un sistema direi vecchissimo che è quello della... a paragone le direi quello dei ricercatori d'oro, no? Con il il diciamo il setaccio da terreno perché gran parte degli antibiotici che ancora noi oggi usiamo, per carità, quindi non mi sto riferendo a roba che non esiste più, ma antibiotici che noi usiamo, viene da quel tipo di ricerca, cioè dalla ricerca di composti che vengono prodotti da altri batteri in natura, soprattutto nel terreno. Chiaramente c'è stata un'era genomica. L'era genomica ha cercato di fare modeling, cioè di cercare di sul disegno molecolare di un target andare a individuare una molecola che fosse capace di bloccare quel target. E poi qui c'è la speranza, ovviamente, su in questo... in questi casi particolari di acinetobacter che giustamente lei ha guardato perché acinetobacter baumannii è fuori al momento da tutte le nuove molecole in sviluppo, o quasi tutte, ce n'è solo una forse in arrivo. Quindi è un microorganismo temibile e fuori da innovazioni al momento. Quindi i target individuati in questo caso si riferiscono soprattutto a piccoli peptidi, a molecole che sono in grado di, diciamo così, di andare a interferire nello sviluppo metabolico di strutture esterne del microorganismo, in questo caso la componente lipidica della membrana esterna. Quindi diciamo che questa strategia è un'altra strategia estremamente, diciamo, produttiva, appunto ribadisco, da portare in clinica. Qui è tutta un'altra strada da intraprendere. Oltre al batterio di cui appunto abbiamo appena parlato, ci sono altri microorganismi in particolare su cui si sta concentrando l'attenzione? Beh sì, direi tutti quelli definiti multidrug, cioè resistenti ad almeno quattro famiglie antibiotiche diverse. E purtroppo ce ne sono molte di queste specie, soprattutto tra i batteri gram negativi. Quindi l'attenzione è su tutto, questo gruppo di microorganismi che il WHO ha indicato come priorità. E qui oltre a cinetobacter maumani troviamo clebsiella pneumoniae, ma troviamo anche scherichia coli. Quindi capisce bene che passiamo da microorganismi particolarmente difficili in nosocomio, cinetobacter e clebsiella, a scherichia coli, che comunque fa infezioni anche in comunità, anche severe, no? Soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Lei pensi a quanta mortalità pediatrica o neonatale abbiamo per batterie miei da coli, per sepsi da coli. Quindi insomma è comunque un microorganismo che ha impatto sulla salute umana e che ha acquisito molti meccanismi di resistenza. Quindi un gruppo nutrito di gram negativi ma anche un gruppetto di gram positivi su cui si pone l'attenzione. Non ultimo stafilococco aureo che rimane sempre un problema italiano. Italiano nel senso dal punto di vista della incidenza di infezioni sicuramente importanti per il nostro paese. Per contrastare la resistenza antimicrobica, quindi si è detto che lo sviluppo di nuovi farmaci è uno degli indirizzi possibili. Quali altre strade però si possono o si devono percorrere? Quali altre strategie si possono mettere in atto? Oltre allo sviluppo di nuovi farmaci dovrebbero esistere anche nuove strategie terapeutiche che sono diciamo dal punto di vista regolatorio probabilmente sono indietro quanto lo sono questi studi che lei mi ha indicato all'inizio. Nel senso che ci sono evidenze per esempio di adjuvant therapy, cioè utilizzare non so i fagi assieme a un antibiotico per potenziarne l'effetto e qui si potrebbe quindi a dire il fago in qualche modo è una sorta di cavallo di troia che entra nel batterio, tutti sappiamo insomma che i fagi sono virus che infettano i batteri e li portano all'isi cellulare per consentire all'antibiotico anche antico e quindi ormai inutilizzabile di funzionare. Queste sono strategie alternative così come se ne stanno sviluppando altri. Quindi diciamo che c'è un campo, un settore di ricerca e sviluppo che potrebbe andare in quella direzione, trovare nuove strategie a cui associare un antibiotico per riuscire a entrare in questi fenotipi molto complessi. Dall'altro ci sono invece strategie di, che posso dire, di non peggiorare la situazione, non peggiorative della situazione, quindi di mettere in atto tutta una serie di strategie che vadano dal contenimento dei microrganismi multidrug, quindi si tratta a questo punto di, appunto di controllo delle infezioni esistenti, oppure di uso appropriato di ciò che abbiamo, attraverso la gestione stewardship, cioè quella gestione che significa parto dal laboratorio, il laboratorio mi dice che cosa c'è in quella infezione, qual è il microrganismo e quale antibiotico io posso usare, in modo da tenere la terapia empirica ad ampio spettro, diciamo così, che ha creato tanto problema nell'indurre resistenze al minimo e quindi utilizzare, diciamo, proiettili selettivi, terapie germe orientate. Ecco, e questa è un'altra strategia per limitare comunque la diffusione di microrganismi multiresistenti. Quindi a monte la prevenzione è molto importante? Beh, è una parola chiave che non possiamo mai dimenticare, buone pratiche, prevenzione, che però da sole non bastano, ecco, vanno collegate, è come dire che le sto dicendo che il processo di contenimento è un processo multifattoriale, in cui sì, c'è prevenzione, nel contenimento, ma c'è anche buon uso, diagnostica e tutto quello che comporta il processo, diciamo così, di uso degli antibiotici nella patologia infettiva. Il contrasto all'antibiotico resistenza deve essere condotto, e su questo concetto si sta cominciando a insistere, in un'ottica one health. Questo cosa significa e cosa implica nello sviluppo di nuovi antimicrobici? Ma, guardi, chi soffre del problema dell'antibiotico resistenza è chi deve fare una terapia antibiotica. Chi fa la terapia in ottica one health? O certamente l'uomo, in ospedale oppure in comunità, sicuramente gli animali, perché entrambi le due, insomma, entrambe le parti usano antibiotici. Usano antibiotici in profilassi, usano gli antibiotici in terapia. Quindi in questi due ambiti, quindi di one health, uomo e animali, nel senso globale del termine, quindi non soltanto ci saranno punti ovviamente più impattanti, tipo in veterinaria, non mi sto ovviamente riferendo all'animale domestico, ma all'animale dell'allevamento, chiaramente dove l'impatto è molto alto anche dall'uso degli antibiotici e dal quantitativo che se ne può usare. Il terzo, diciamo, vertice di questo triangolo è certamente l'ambiente, che figura essere un collettore, quindi non è più l'ambiente come identificativo perché ha un problema, non ritengo che l'antimicrobico di resistenza possa dare un problema all'ambiente, ma l'ambiente è il collettore di tutto questo, perché comunque le nostre attività, tutte le nostre attività, umane, animali che siano, finiscono in ambiente, quindi l'ambiente risulta essere un reservoir potentissimo, sia che sia, soprattutto in alcuni punti chiamiamoli hot spot, un reservoir potentissimo di geni di resistenza e quindi possibilmente scambiabili tra microorganismi per quei meccanismi che i batteri hanno, cioè di scambiarsi del materiale genetico e quindi di acquisire nuove resistenze. Quindi l'ambiente è il terzo degli elementi. Beh, è chiaro che se lei mi domanda che cosa cambia in questa ottica, beh, cambia tanto perché le strategie da utilizzare in questi ambiti sono diverse tra loro, un conto è l'uomo, un conto sono gli animali e sicuramente un conto è capire che cosa l'ambiente ci dice dall'uso così forte che abbiamo avuto degli antibiotici e che abbiamo degli antibiotici. Nel 2022 è stato avviato il progetto nazionale Infact e lei nello specifico si occupa proprio della parte relativa all'antibiotico resistenza. Una delle linee di ricerca di cui vi state occupando è lo sviluppo di approcci non convenzionali e alternativi per trovare nuove strategie contro i microorganismi e molti farmaco resistenti. Ci spiega più nello specifico in che cosa consistono questi approcci alternativi? Si tratta di ciò di cui ci parlava prima oppure anche di qualcosa in più, di ulteriore? Sì, sì. Grazie per questa osservazione che comunque in questo progetto, infatti, che lei ha citato, l'Università di Padova partecipa attivamente proprio in questo ambito, direi anche in questo ambito, non soltanto in questo. Ed è ovviamente uno degli working package più interessanti e innovativi, direi io, nel senso che è lì la fucina dove quelle osservazioni che ho fatte in precedenza sul usare un adiuvante, diciamo, alla classica terapia antibiotica, trovare alternative strategiche da questo punto di vista, si sta maturando. Una è il fago, l'ho citato in precedenza, l'alternativa di poter utilizzare il futuro, perché adesso anche la legislazione è abbastanza fumosa da questo punto di vista per i nostri paesi, intendo l'Europa, e quindi utilizzare il fago come apriporta della veicolazione di un farmaco, antibiotico ovviamente, ma i gruppi hanno altre, diciamo così, innovazioni all'interno che comunque comportano varie strategie, ma chiamiamole sempre, siccome sono sperimentali al momento, additive per far funzionare antibiotici attivi, non più attivi, mi scusi, e nello stesso tempo alleggerire la pressione selettiva che gli antibiotici fanno sull'ambiente, quindi creando, diciamo, inducendo nuove resistenze. Ecco, questo gruppo ha questo in mente e io spero che nel periodo di ricerca che il FAT copre, che è questo triennio, si possa arrivare a qualche novità, diciamo, anche interessante da sviluppare in clinica, quindi questo io me l'auguro fortemente, perché è un argomento molto interessante, molto appealing anche per studi e anche per il futuro. Grazie.